Se ci fossero stati i percorsi di sicurezza alla strage non ci sarebbe stata e in ogni caso la riserva in quelle condizioni doveva restare chiusa. Il geologo Carlo Cassaniti, consulente tecnico della Procura della Repubblica al processo per la tragedia delle Macalube, ha deposto ieri per quasi sei ore. Il 20 settembre del 2014 morirono travolti dal fango della collina esplosa per l'attività dei vulcanelli i fratelli Carmelo e Laura Mulone, di 9 e 7 anni, mentre facevano una passeggiata insieme al padre. Cassaniti, uno dei più noti esperti in Italia del fenomeno di vulcanologia, è stato incaricato di individuare le cause dell'esplosione e le condizioni strutturali dell'ente. Sulla base delle sue conclusioni sono finiti a processo l'architetto Domenico Fontana, attuale assessore comunale ed ex presidente regionale di Lega Ambiente, ente che gestiva la riserva. Daniele Cucciardo, anche egli architetto esponente di Lega Ambiente, dipendente della riserva, è Francesco Gendusa, dirigente dell'assessorato regionale al territorio, esperto di siti naturalistici. Ho esaminato, ha detto Cassaniti rispondendo al pubblico, Ministero Carlo V, la situazione relativa ai tre decenni precedenti. Nella riserva delle Macalube c'erano stati 10 eventi parossistici. In sostanza si è verificato per 10 volte in 30 anni che è un periodo abbastanza elevato. Questo significa che sulla base dei dati statistici il sito era da ritenere poco sicuro. Cassaniti precisa un aspetto, nessuno poteva prevedere che sarebbe successo in quel giorno e a quell'ora. Dal punto di vista temporale non ci poteva essere una previsione, ma di sicuro un sito dove si sono verificati 10 eventi di quella natura è un sito pericoloso. Doveva essere attivato un sistema di monitoraggio perché i segnali di allarme erano tanti. Il consulente del PM ha messo a confronto la riserva delle Macalube con le salse di Nirano. Cassaniti fa proiettare una diapositiva con un grafico dove si vede ad esempio che nella riserva dell'Emilia Romagna ci sono dei percorsi obbligatori. Se ci fosse stato un percorso di camminamento obbligatorio distante dal luogo del pericolo di sicuro addetto non ci sarebbe stata questa tragedia. Senza la stazione permanente di monitoraggio la riserva non doveva restare aperta. Prima o poi sarebbe successo, i segnali c'erano tutti. Adesso la difesa replicherà con i propri consulenti di parte in tutto sei per dimostrare che invece si è trattato di un evento imprevedibile. Grazie a tutti.